ecco il reparto del bottegone per chi vuol calzare comodo senza spendere veramente un occhio della testa venite a trovarci perché chi vuol riposare con le scarpe deve venire al bottegone della calzatura e vedere questo reparto, la Grulland, la Florence, insomma calzature veramente comode e prezzi? a prezzi bassi, abbiamo vari modelli adatti a tutti i piedi e a tutti i problemi dei piedi e come sempre con un occhio a risparmio, venite a trovarci anche nel mese di aprile che siamo aperti la domenica ciao